Rivellino 1.50.37 Quarta classificata Rosvella Penigno Terza classificata Elena Ciani Della Team Marathon Bike Seconda Paola Giudici della Pisa Marathon Tutti questi premi sono offerti da Nencini Sport Il premio invece è la vincitrice anche dall'oreficeria Bracci di San Vincenzo dove vince nella categoria M Antonella Mendola con 1.38.07 alla media di 4.39 Un applauso Una foto Grazie Grazie Grazie